Secondo i dati Istat dell'ultimo triennio, oltre il 96% di incidenti stradali sul territorio nazionale deriva da comportamenti di guida scorretti e sono per lo più i giovani, tra i 20 e 39 anni, la categoria più colpita per numero di decessi. Si rivolge agli studenti campani il progetto SISaggio Guida Sicuro, alla sua quarta edizione, che l'Associazione Meridiani promuove con il sostegno di MIUR, istituzioni locali, ANAS e Università Federico II. Lo scopo è sensibilizzare i più giovani al rispetto del codice della strada, realizzando nelle scuole iniziative sui temi dell'educazione alla guida sicura. La sicurezza non può dipendere soltanto da deterrenti, sanzioni, pene sempre più gravi, ma dipende ancora di più dalla diffusione di una cultura per la sicurezza, per la prevenzione, da una cultura di informazione. E quindi questa è un'iniziativa a cui aderiamo dalla prima edizione, perché raccoglie tutte queste considerazioni, prevede una collaborazione che per noi è essenziale tra le diverse istituzioni. La campagna sulla sicurezza stradale ha ispirato il concorso di idee al quale partecipano studenti delle scuole medie e superiori del territorio, realizzando manifesti ed elaborati multimediali sui rischi e i pericoli causati da comportamenti imprudenti alla guida. Le campagne di sensibilizzazione, di formazione attraverso la pedagogia nelle scuole sono fondamentali e tra l'altro il senso etico e di moralità pubblica anche attraverso la sicurezza stradale è molto importante. I bambini e i giovani devono essere attenti certe volte ad educare gli adulti e noi dobbiamo essere più attenti ad evitare che l'uso dell'alcol e delle droghe, la cui soglia di età se è troppo pericolosamente abbassata, possa far aumentare gli incidenti stradali. Io più che incidenti li chiamerei omicidi perché più delle volte se una persona muore o un omicidio colposo, se una persona rimane ferita più o meno gravemente è una lesione colposa. Quindi sono fatti gravi complessivamente nel nostro paese, in ogni famiglia allargata c'è una persona che ha avuto un incidente stradale più o meno grave, quindi sono statistiche che fanno paura sulle quali bisogna lavorare molto. Durante la presentazione dell'iniziativa in comune è stato siglato anche un protocollo d'intesa per incentivare scelte di mobilità più sicure e sostenibili.